Arriva nella città del porto più infiltrato dalle Endrine e nel territorio che ospita la tendopoli per migranti più grandi d'Italia. Diego Trotta, nuovo dirigente del commissariato di polizia a Gioia Tauro, nella conferenza stampa dopo l'insediamento non ha nascosto la delicatezza dell'incarico. Poliziotto originario di Napoli, Trotta ritorna nella piana dove aveva già guidato il commissariato di Palmi. In una provincia che conosce molto bene, essendo reduce dalla conduzione per cinque anni della polizia scientifica della questura di Reggio Calabria, il nuovo dirigente avrà competenza su una sede che comprende sette comuni. Il dirigente nella conferenza stampa ha voluto presentare anche il suo vice, il cosentino Eugenio Aloia. Trotta è un investigatore di grande esperienza, nel cui curriculum figura anche la cattura del boss regino Giovanni Tigano e che interpreterà la guida del presidio Gioiese, unendo il suo fiuto all'alta considerazione che di lui ha il questore Raffaele Grassi che l'ha voluto. Anche l'insediamento del porto richiede ovviamente l'intervento della squadra Stato, che è composta anche da protagonista dalla Polizia di Stato. Il porto di Gioia Tauro è un insediamento industriale e commerciale della massima importanza, quindi presteremo la massima attenzione a tutte le problematiche che mi discenderanno, che non sono solo quelle legate al traffico internazionale di cocaina, ma sono tutte le problematiche legate ovviamente appunto al fatto che il porto è di per sé stesso un insediamento commerciale. Agostino Pantano per l'AC News 24